Dieci giorni di disagi per quattro famiglie residenti a Roccapia che non hanno più a disposizione il mezzo di trasporto gratuito che accompagnava i bimbi della scuola dell'infanzia e gli alunni della scuola primaria nell'edificio scolastico di Pettorano sul Gizio, dove per fatto la spola da un territorio all'altro i genitori hanno deciso nei giorni scorsi di rivolgersi ai carabinieri per denunciare il caso e la conseguente interruzione del servizio. La scuola inizierà da quasi due settimane e noi non abbiamo ricevuto alcun tipo di risposta, intervengono i genitori che hanno accusato il colpo. Tutti si sono rimboccati le maniche a modo loro, c'è chi è stato costretto a entrare in ritardo sul posto di lavoro, chi si è rifugiato a casa di parenti a Sulmona per poter raggiungere la scuola di Pettorano in modo più agevole e il disagio che stanno affrontando le famiglie di Roccapia fa il paio con i problemi che incombono sui piccoli comuni. Le risorse a disposizione sono sempre più esigue, come pure il personale non è mai troppo, ma una soluzione va trovata. Sta lavorando in tal senso il sindaco del paese, Mauro Leone, che getta acqua sul fuoco. Mi rendo conto della difficoltà e dei disagi che stanno affrontando le famiglie e mi dispiace, interviene il sindaco. A loro chiediamo solo un po' di tolleranza per trovare una soluzione e ripristinare un servizio che non è mai mancato, che abbiamo garantito negli anni precedenti anche gratuitamente sia per gli alunni delle elementari che per quelli dell'asilo. Insomma, legge e burocrazia non fanno altro che aggiungere ostacoli alla già complessa situazione, perché se fino a giugno 2019 il sindaco si è assunto tutte le responsabilità, resta il fatto che la legge non ammette ignoranza. Il pulmino che abbiamo in dotazione è fatiscente. Dobbiamo quindi reperire un bus che risponde alla normativa vigente, come pure il personale a bordo deve possedere tutti i titoli previsti dalla legge. Per questo ci stiamo attivando con una cooperativa della zona per affrontare il problema e cercare di risolverlo, conclude Leone. Il sindaco ci tiene a far sapere che non è rimasto con le mani in mano. Lo stesso hanno fatto i genitori che non potevano far rimanere i figli a casa. Una situazione spiacevole che, speriamo, si risolva più presto.